Zanichelli presenta I capolavori del Museo archeologico di Napoli Spiegati da Emanuela Pulvirenti Con il Museo Digitale Napoli, 22 marzo 2016 Nuove idee per insegnare la storia dell'arte Cominciamo subito questo percorso museo.scuola.zanichelli è un museo online è un museo perché contiene opere d'arte però le contiene in una maniera molto particolare che ora vedremo entriamo e esploriamo questo museo è fatto di una serie di edifici che qui potete vedere proprio in forme architettoniche la collezione permanente la biblioteca, la sala del restauro le mostre temporanee e la sala proiezioni non vi anticipo già cosa servono tutti gli altri locali a noi interessa per ora fare un percorso nella collezione permanente dove sono esposte in ordine cronologico tutte le opere d'arte presenti nel manuale cominciamo subito a vedere il primo piano è diviso in piani il primo piano è quello che va dalla preistoria all'arte romana all'interno di ogni piano ci sono dei dipartimenti che sono ecco vedete che si accendono proprio questi ambienti la pittura la scultura il costume gli oggetti d'arte giardini documentazione architettonica gabinetto dei disegni e delle stampe andiamo già a visitare la scultura così cominciamo ad addentrarci cercare le opere d'arte presenti in questo museo basta ecco muoversi all'interno siamo sempre nel primo piano nella sezione della scultura abbiamo un percorso lungo tutta la scultura che possiamo sfogliare così in questo modo quindi immergerci in un flusso continuo di opere una cosa quasi da vertigini pensare di percorrere tutta la storia dell'arte in questo modo però noi cerchiamo adesso subito un'opera particolare forse una di quelle più famose di questo museo andiamo alla scultura greca classica siamo qui possiamo muoverci anche all'interno di questo menu il pezzo forte naturalmente è il doriforo che possiamo trovare ecco scorrendo queste opere ogni sala è preceduta da una spiegazione che introduce quindi in questo caso la scultura greca classica andiamo a cercarlo già è apparsa un'altra protagonista di questo museo Afrodite e Sosandra è proprio qua fuori appena uscite dalla sala andiamo avanti troviamo i bronzi troviamo il discobolo andiamo ancora avanti eccolo qua il doriforo prima ancora di entrare all'interno dell'esplorazione dell'opera ogni opera presenta una didascalia completa fatta in maniera molto corretta molto precisa ma anche una serie di simboli ecco questo che ricorda un po' il segnaposto delle google map ci porta al luogo in cui l'oggetto è esposto quindi abbiamo subito la scheda del museo archeologico con tanto di mappa quindi non vi perdereste come ho fatto io oggi per arrivare qui che ero alle spalle del museo ma ho dovuto chiedere informazioni l'orientamento non è il mio forte e qua sotto tutte le opere presenti in questo museo che sono comunque presenti nella piattaforma chiaramente ce ne sono tante e tante di più però abbiamo un collegamento diretto a queste opere che sono poi analizzate all'interno altra icona un link diretto alla scheda dell'autore naturalmente quando l'autore è conosciuto ha una sua attribuzione con la bio e le opere a lui attribuite riconosciamo anche il diadumeno che tra poco vedremo andiamo a vedere ecco come possiamo esplorare l'opera le immagini sono tutte molto belle di altissima qualità quindi possono essere zoomate anche parecchio per godere di ogni particolare quindi dalla capigliatura all'anatomia del busto addirittura si intravede pure quella leggera infossatura che ha sulla spalla dove stava appoggiata la lancia che poi è andata perduta infatti il doriforo è proprio il portatore di lancia possiamo anche notare una serie di elementi come il rinforzo o il tronchetto che sono degli elementi necessari nelle copie in marmo l'originale di Policleto doveva essere in bronzo una fusione a cera persa però oltre alla fusione si è perso anche l'originale quindi per fortuna i romani amavano molto queste opere quindi ne hanno fatte tantissime copie ma la più pregiata, la più bella, la più completa è quella di questo museo perché quest'opera è così importante? perché a questa è associato il famoso canone di Policleto il canone era un insieme di regole, di proporzioni che Policleto aveva desunto misurando tantissimi ragazzi, uomini e cercando alla fine quali fossero le misure perfette una specie di utopia io per far capire questa cosa dell'uomo ideale delle misure ideali dico ai miei studenti alle studentesse, sono tantissime ragazze pensate al vostro fidanzato ideale biondo, occhi azzurri, non esiste state sicure che non esiste ecco anche il doriforo è alla fine nonostante una statua che parte dal naturalismo cioè dall'idea di copiare e imitare con questa mimesis la natura in realtà è un'imitazione talmente idealizzata che questo rappresenta proprio la perfezione con delle misure matematiche che ci danno questa perfezione la testa è un ottavo del corpo i tre ottavi passano per l'ombelico che è anche sezione aurea dell'intera altezza a metà l'attacco delle gambe linguine divide la figura perfettamente in due e tutte queste proporzioni arrivano fino alle falangi delle dita cioè una cosa molto complessa purtroppo il canone è andato perduto però queste misure si conoscono un'altra cosa per cui è famosa altre le proporzioni è questa posizione particolare flessuosa statica, stabile, equilibrata il chiasmo il chiasmo che poi spesso ne parlo così tanto che per i miei alunni diventa un'ossessione io li vedo nei corridoi che tra di loro fanno ma ti sei messo a chiasmo e io penso oddio ho creato un mostro e comunque sanno che il chiasmo prevede questo peso sulla gamba destra quindi il bacino si inclina in un senso per riequilibrare il tutto le spalle si inclinano nel senso opposto non solo anche gli arti partecipano a questo incrocio a questo andamento sinuoso perché due arti opposti sono in tensione gli altri due sono in riposo come vedete mentre sto spiegando queste cose vi sto mostrando tutta una serie di analisi grafiche che sono già contenute dentro il museo quindi non è una carrellata di immagini contiene anche didascalie analisi, schemi quindi è già un luogo dove studiare in classe chi ha la fortuna di avere una LIM apre il museo e inventa la lezione sul momento qua c'è veramente da sguazzare dentro l'arte vi faccio vedere un'altra cosa molto bella sulla quale veramente io punto tanto i confronti ecco all'interno già del museo come materiali già qui dentro ci sono una serie di confronti tra il doriforo e altre sculture fino addirittura all'augusto di prima porta quindi non solo tra statue greche ma anche con quelle romane vediamo per esempio un confronto tra Policleto e Prassitele questo è molto interessante perché spesso quando spieghiamo dei termini diciamo il doriforo ha un equilibrio statico e molto stabile questa cosa non si percepisce se non nel momento in cui io osservo una statua in cui questo elemento non c'è allora poterle confrontare in questo modo è di un'efficacia didattica strepitosa perché ecco io adesso con Prassitele lo vedo che c'è il chiasmo ma un chiasmo talmente accentuato che la statua inizia un po' a perdere l'equilibrio ha bisogno di un appoggio che non è il tronchetto che serve per non fare spezzare le caviglie è un elemento che riequilibria la composizione perché il baricentro si è spostato un po' troppo ma a questo punto io mi incuriosisco sul chiasmo e dico voglio cominciare a vedere quali altre opere hanno il chiasmo e qui entra in gioco una funzione bellissima che è questa della ricerca avanzata vado in questa finestra vado sull'opera questo è veramente uno dei punti proprio di forza caratteristiche dell'opera posso scegliere per soggetto per stile per periodo questi ora dopo ne apriremo qualcuno andiamo alle composizioni a chiasmo cerco ecco questo tipo di ricerca mi mette insieme tutte le opere che hanno questa postura quindi il chiasmo inclusi per esempio i bronzi di Riace è già una lezione questo è un percorso iconografico che il sistema ha creato da solo semplicemente mettendo a chiasmo io vi sfido a provare a fare una cosa del genere con Google Immagini Google risponde come Siri puoi ripetere la domanda non ho capito perché probabilmente spunteranno tanti dorifori perché le altre opere non hanno questa informazione del chiasmo queste ce l'hanno ve lo dico tra di noi perché ce l'ho messa io questa informazione mi sono occupata del backstage di tutta questo di questa archiviazione pensando già a tutto quello che può servire poi a un insegnante proprio perché io queste cose poi ci devo lavorare e allora qualsiasi opera possa servire a scoprire questo particolare perché mi sono intrigata proprio col chiasmo allora io la posso selezionare e vado a vederli tutti in questo modo ora io metterò delle stelline vedete che qua ci sono qui accanto queste stelline grigie se io clicco su queste stelline diventano gialle dopo vedremo a che cosa serve intanto fidatevi sono dei preferiti ne metto alcuni che dopo ritroveremo ecco mettiamo anche questo e questo e andiamo avanti vediamo qualcos'altro qualche altro tipo di ricerca per esempio una ricerca molto più semplice da fare per titolo vado su opera voglio cercare un'opera a cui sono molto affezionata che è questa l'ercolone farnesone questo questa montagna umana questo marmo pulsante che ricorda un po' quelle le sculture anche un po' di Michelangelo poi lui è stato riscoperto proprio negli anni in cui operava Michelangelo che era una cosa che Leonardo gli rimproverava i sacchi di noci muscoli troppo come dire troppo intenzione anche quando avrebbero dovuto essere a riposo ma andiamo sul nostro Ercole ecco possiamo come sempre zoomare l'opera come vedete io non ci sono andata partendo dalla sala come ho fatto per il doriforo questa io l'ho presa partendo da una ricerca quindi io in qualsiasi punto mi trovi anche se per esempio mi trovo ad esplorare il museo archeologico la scheda iniziale io posso accedere alle opere questa è un'altra cosa interessante contiene l'analisi questo schema che ci mostra un andamento quasi a spirale perché c'è un chiasmo però con la gamba sinistra che sta davanti invece che dietro c'è il busto e il collo girati in senso opposto rispetto al doriforo allora io direi quest'opera ce la conserviamo perché forse ci serve anche questa dopo mettiamo la nostra brava stellina gialla pensiamo ancora a qualcosa che ci possa servire per creare un ipotetico percorso nostro personale una lezione che porti fino allo sviluppo del chiasmo potremmo cominciare dagli egizi quindi tornare a una ricerca per sale andiamo nella scultura mesopotamica ed egizia anche qui possiamo come sempre avere informazioni sul periodo artistico iniziare a scorrere a fare questo viaggio nel tempo naturalmente nella scultura avete visto poco fa che c'era lo standardo di Ur in realtà non è proprio assimilabile le sculture però è un oggetto tridimensionale alla fine per non creare troppi dipartimenti abbiamo fatto un po' di assimilazioni come quella per esempio tra pitture e mosaici che dopo vedrete non lo scorriamo tutto perché io so che l'opera che sto cercando è verso la fine quindi posso anche sfogliare le opere semplicemente ecco in maniera molto rapida stavo cercando questo cosa c'entra questo col doriforo in qualche modo c'entra perché questo se noi andiamo a vedere per esempio il confronto questo ha influenzato l'origine dell'arte greca perché le statue egizi avevano sempre questa posizione stante con i pugni chiusi stretti sui fianchi l'espressione assolutamente frontale sguardo frontale e la gamba sinistra leggermente avanzata rispetto alla destra un accenno di un passo che però non dà assolutamente dinamismo e le statue che vedete accanto i famosi gemelli Cleobis e Vitton hanno la stessa postura sono massicci robusti sono proprio la tipica scultura arcaica perché è da lì dall'Egitto che arriva questo tipo di posizione allora il mio bravo sacerdote dal nome impronunciabile metto la stellina e me lo conservo però visto che parlavamo anche di Kuroi vado a vedere la scultura greca arcaica e faccio un'altra passeggiata quindi trovo naturalmente all'inizio i gemelli Cleobis e Vitton trovo anche il modellino di Tempio il Moscoforos e trovo eccolo qua per esempio Kuros di Milo osserviamo questo molto slanciato la tipica scultura ionica liscio liscissimo che non a caso contiene anch'esso un confronto in questo caso il confronto è diverso mentre poco fa col sacerdote egizio il confronto voleva evidenziare le analogie qua invece si evidenzia la differenza perché la postura è identica però tra la scultura dorica e quella ionica c'è una differente proporzione soprattutto quelli sono molto tozzi la testa per esempio è un settimo dell'intero corpo l'anatomia pesante incisa torniamo indietro e mettiamo la nostra brava stellina quindi sul Kuros di Milo facciamo un altro tipo di percorso adesso vediamo per esempio cercando ancora sculture cerchiamo delle sculture in base al materiale questa è una cosa anche abbastanza interessante per esempio voglio vedere il bronzo basta che io digito e trovo qui il materiale che sto cercando la cosa interessante è che il sistema assembla e raccoglie tutte le opere in bronzo compreso il fegato di Piacenza quindi qua parliamo di Art Etrusca la lupa capitolina manca un capo tribù che è un bronzetto nuragico e poi troviamo l'Ermes a riposo che invece è uno dei capolavori di questo museo questo è interessante perché si può fare praticamente una storia del bronzo si può lavorare quindi non solo per iconografie come la scultura col chiasmo ma anche per materiali per tecniche diventano dei percorsi che si possono creare quindi in estemporanea e poi esplorare ogni singola opera questa per esempio ecco possiamo andare a vedere le foto sono sempre tutte di grande qualità quindi apprezziamo per esempio la capigliatura le labbra quasi leggermente dischiuse come se avesse quasi il fiatone si sta riposando infatti è seduto sopra una roccia sembra quasi non voler poggiare i piedi lui è abituato a volare con i suoi calzarialati quindi ha questa posizione così intimista è colto in un momento non assolutamente aulico ma privato andiamo avanti in questa nostra esplorazione del museo digitale ma anche del museo archeologico torniamo al primo piano il primo piano abbiamo detto contiene tutta l'arte dalle origini all'arte romana a questo punto invece occupiamoci di pittura la pittura è la sala questa gialla basta andare alla pittura anche qua ecco come vi dicevo per la scultura lo standardo di Ur pittura si intende tutto ciò che è bidimensionale si comincia in effetti con la pittura rupestre ma troviamo anche incisioni che a rigor non dovrebbero farne parte però è rappresentazione bidimensionale quindi alla fine è facile orientarsi c'è dentro anche la pittura vascolare possiamo scorrerla e trovare questi capolavori egizi ognuno con la sua analisi la sua scheda andiamo al periodo ellenistico eccolo qua e ecco questa è l'immagine di cui parlava il direttore probabilmente tutti voi conoscete questo museo e quindi questa parete stupefacente con la battaglia di Isso questa battaglia tra Alessandro Magno Dario III una battaglia che è veramente uno spettacolo il direttore ha giustamente sottolineato anche gli aspetti simbolici di questo scontro attraverso questa navigazione nell'immagine noi ne possiamo cogliere anche gli aspetti proprio del linguaggio artistico quindi il dinamismo espresso dalla direzione delle lance il patos dei volti le espressioni molto accese molto vivaci il realismo delle figure il cavallo morente disteso per terra un cavallo addirittura visto di scorcio da dietro una cosa del genere la si rivede solo 1600 anni dopo con Paolo Uccello nella battaglia di San Romano a me questa cosa veramente fa venire quasi brividi come piccolissimi dettagli come una freccia che sembra quasi indicare la prospettiva dal senso della profondità così come tutte le ombre fatte in maniera talmente sapiente da creare uno sfondo anche laddove c'è un ammasso di corpi e non c'è in realtà una definizione spaziale vera e propria come ulteriore approfondimento possiamo andare a vedere le zoomate sui volti dei due personaggi principali in questo caso noi per esempio possiamo apprezzare l'opus vermiculatum quindi questo particolare tecnica di disposizione delle tessere piccolissime che seguono degli andamenti in curva non quindi messi secondo una griglia e questo è anche molto interessante proprio per far capire come questa tecnica aveva raggiunto talmente un livello talmente raffinato da sembrare quasi pittura da lontano a degli effetti proprio pittorici e bastano a volte dei piccoli tasselli di un colore diverso a espandersi e dare e dare una tinta un po' più omogenea a tutto quanto un po' quello che poi si vedrà col pointillismo a me piace fare un po' questi salti temporali e il museo lo permette è un'opera sicuramente celebrativa è un'opera volendo anche un po' propagandistica allora ecco questa è una cosa interessante su cui riflettere perché l'arte ha avuto nel corso della storia tante funzioni diverse si comincia con la famosa funzione propiziatoria dei graffiti rupestri ma si continua spesso con altre opere che come dico ai miei alunni non sono diversi dai nostri manifesti elettorali vogliono far passare un certo tipo di messaggio come li troviamo immaginiamo di voler approfondire questo aspetto è tutto pronto basta andare in funzione principale c'è la funzione celebrativa prima c'è quella apotropaica che è un termine per i quali i miei alunni impazziscono apotropaico e tracotanza tracotanza la imparano con la collega di lettere con me imparano apotropaico e lo ripetono sempre andiamo su celebrativa e vediamo cosa troviamo per capire come questo aspetto di propaganda si sia poi nei secoli anche modificato scopriamo intanto una delle opere che sono qui in questo museo i tirannicidi quindi questi eroi che riescono a liberare dal tiranno la città ma troviamo anche che so altre immagini come ecco questi frammenti dell'altare di Pergamo che è tutto un grande monumento celebrativo oppure troviamo anche dei personaggi come il faraone Akhenaton che decide di mostrare un aspetto particolare del potere quello familiare anche questa è una cosa che molti politici nei loro manifesti elettorali amano fare quindi lui è la moglie Nefertiti che abbracciano queste bambine lui addirittura la sta baciando una cosa proprio di estrema tenerezza e che però evidentemente vuole mostrare la grande umanità di questo regnante per lo meno questo era quello che lui voleva comunicare e anche si spiega anche col fatto che lui decise improvvisamente di cambiare tutte le regole della religione egizia un solo dio Aton cosa che poi durò solo nella sua generazione però ci dà l'idea di qualcosa di molto diverso che stava succedendo chiudiamo con questo capitolo torniamo alla pittura e occupiamoci di un altro oggetto presente in questo museo andiamo nella pittura greca classica e vediamo ecco qua riconoscete già alcune opere molto famose la tomba del tuffatore cratere con amazzonomachia ecco questo un bellissimo oggetto con la pittura a figure rosse si vede Achille che sta uccidendo Pentesilea si vede anche il dettaglio della decorazione di questi meandri le decorazioni nelle anse tutto molto molto ben visibile mentre siamo già in questa sala possiamo per esempio già confrontare due tipi di cratere un cratere a campana con quello con amazzonomachia forme che diventano sono spesso abbastanza difficili da insegnare ai ragazzi il cratere se lo ricordano perché era questo vaso grandissimo gigantesco dove veniva mescolato l'acqua il vino il miele per fare questo strano cocktail facciamo una cosa mettiamo un preferito in questo perché noi dopo prepareremo un confronto tra un'anfora a figure rosse e una del periodo precedente sappiamo che le figure rosse sono una conquista un po' successiva all'iniziale pittura vascolare che troviamo nella sala della pittura greca arcaica e che invece è a figure nere qui prendiamo un un'anfora in questo caso molto famosa quella di Exechias con Achille e Ajace che giocano i dadi possiamo ingrandire e osservare anche l'incredibile fattura delle due vesti degli eroi visti di profilo in una maniera anche abbastanza se vogliamo rigida lo schema dell'analisi ci aiuta immediatamente a scoprire che c'è una perfetta simmetria persino negli scudi poggiati dietro i personaggi quest'anfora la mettiamo e la aggiungiamo ai preferiti dopo anzi subito perché il nostro percorso sta quasi per terminare andremo a fare questo lavoro prima vi voglio mostrare altre due funzioni molto belle della ricerca eravamo all'anfora di Achille Ajace siamo quindi come dice la didascalia tra 550 e 525 avanti Cristo e se io volessi sapere cosa succedeva cosa veniva prodotto in quegli stessi anni abbiamo la possibilità di fare una ricerca per periodo storico andiamo in questa fascia dal 700 avanti Cristo al 500 dopo Cristo e selezioniamo per esempio dal meno 600 al meno 500 siamo quindi in quel periodo lanciamo la ricerca ecco questa è una cosa che io trovo molto interessante perché ci accorgiamo che ci sono manufatti molto primitivi che troviamo insieme a oggetti etruschi che troviamo insieme all'arte assira insieme a oggetti di queste misteriose civiltà italiche insieme ai primi elementi anche dell'arte greca ad alcuni vasi ecco questo io lo trovo molto utile perché spesso col fatto che l'arte greca si trova molto dopo quella egizia o quella etrusca si trova dopo quella greca si perde completamente questo senso di sincronia per cui mentalmente si pensa che l'arte mesopotamica sia finita da millenni quando ci sono i greci invece no ci sono tutto un periodo di sovrapposizioni che in qualche modo fa chiudere il cerchio scopro che tra l'altro ci sono anche livelli diversi mentre una civiltà è già arrivata alla fine su cose raffinatissime un'altra ancora sta cominciando a creare i primi oggetti un po' ancora deformi semplici e questa è anche una cosa interessante perché spesso e questa è una cosa che io rimprovero ad Alberto Sordi che c'entra Alberto Sordi perché tiro fuori quella famosa battuta verso gli inglesi quando noi i romani facevano il Colosseo voi vi tingevate la faccia di blu ok e io dico sì ma quando i romani ancora erano degli allevatori in Egitto e in Mesopotamia avevano fatto da un pezzo le piramidi i templi le zikurat quindi non c'è una gara a chi è arrivato prima ognuno con i suoi tempi ognuno è una civiltà che ha una sua evoluzione non è che si fa la gara a chi è più bravo a chi è arrivato prima ci sono delle espressioni artistiche semplicissime come quelle dell'arte cicladica che sono di una bellezza tant'è vero che hanno ispirato persino modigliani quindi non è che se la cosa è semplice vale meno se vale chi è arrivato prima a farle insomma questo e questi strumenti che ci permettono di disgregare il libro di rimaneggiare mescolare tutte le opere permettono proprio di fare queste scoperte di scoprire cosa succede contemporaneamente in tanti posti non solo ma ci permette anche di scoprire cosa succede in un'area perché io studio alcune cose che avvengono in un posto in un certo periodo però poi secoli millenni dopo nella stessa area ne succedono altre io non le collego più non mi ricordo questa cosa allora c'è quest'altra funzione cerca nella mappa mentre prima ci siamo mossi lungo la linea del tempo adesso ci muoviamo nello spazio questa la riconoscete una mappa proprio di di google map quindi sapete che funziona così con lo zoom ci spostiamo stiamo per arrivare a atterrare a napoli ecco fermiamoci a questa dimensione disegniamo un rettangolo e lo spostiamo un po' ecco per contenere tutta l'area circostante vediamo che opere trova il sistema trova chiaramente quelle del museo giustamente il museo archeologico ricade in quest'area però trova ad esempio le opere gli affreschi della villa di Poppea bellissimi se poi uno apre l'artwork può restare ore e ore ad ammirare i dettagli di questa che è una è una prospettiva c'è invece del punto di fuga l'asse di fuga ma è una cosa assolutamente strepitosa è un teatro dipinto così come gli affreschi bellissimi questi credo che siano stati restaurati di recente ed è esploso il colore questo rosso strepitoso questa scena di banchetto chi danza musica eccetera bellissimo quindi a che cosa può servire anche questa possibilità di muoversi nello spazio per esempio quando si organizzano le gite di istruzione uno va in un posto e poi magari aveva a portata di mano tante altre cose però non ci ha pensato ecco ci può pensare il museo digitale al posto nostro perché ha tutte geolocalizzate le opere presenti quindi le ritrova in automatico non scappano vediamo adesso di tornare di nuovo indietro ai nostri edifici prima vi dicevo che non vi anticipavo che cosa questa la sala proiezioni che secondo me è una specie proprio di parco giochi qua ci si diverte andiamo a vedere di cosa si tratta la sala proiezioni è il posto dove noi possiamo cominciare ad aggregare nuovi percorsi se vi ricordate prima vi dicevo che quando fate la ricerca per esempio sul chiasmo automaticamente già avete un elenco che è un percorso iconografico però qui posso fare dei percorsi completamente personalizzati in che modo la chiamiamo per esempio l'evoluzione del chiasmo è molto semplice una lezione per il primo anno molto semplice è creare subito la sequenza basta cliccare sulla freccina o trascinare con un drag and drop allora andiamo a metterli in un ordine più o meno cronologico quindi mettiamo qua poi il diadumeno mettiamo prassitele e mettiamo l'isippo cosa succede? basta che lancio l'anteprima e questi sono diventati simili alle sale però questa è una sala che ho allestito io come aver fatto una mostra insomma quindi ho preso tutte le opere dai musei dove erano collocati e ho creato una mostra dedicata all'evoluzione del chiasmo come sempre ogni opera si porta presso tutte le sue analisi tutta la sua scheda quindi io posso fare lo zoom osservarmi tutti i particolari qua per esempio ci sono le ricostruzioni ci sono tutte le possibili analisi qua la curva che evidenzia questo chiasmo quasi eccessivo di questa figura cos'altro possiamo fare sempre così per approfondire e rendere più efficace la lezione l'analisi l'analisi grafica avete visto che già molte opere hanno le loro analisi ma possiamo fare le nostre quindi prendiamo di nuovo il diadume andiamo su modifica immagine qui è molto semplice perché noi scegliamo un pennino un colore uno spessore prendiamo la matita e direttamente disegniamo sopra la statua quindi abbiamo per esempio evidenziato quest'andamento AS che ha questa non è il diadume prassitele lo stiamo facendo ma lo possiamo fare per tutte le statue che abbiamo scelto quindi ad esempio lo vogliamo fare su Ercole andiamo sempre a prendere la scultura scegliamo il colore facciamo un verde un po' più scuro uno spessore maggiore prendiamo lo strumento matita e anche qui andiamo a evidenziare questa curva molto accentuata tutte queste analisi possono avere anche qui il loro titolo non lo faccio per non perdere tempo però si salvano e finiscono nell'archivio le mie analisi quante volte avremmo voluto spiegare che so la famosa composizione piramidale il raffaello eccetera la tracciamo nell'aria col dito qui la tracciamo per davvero anche con linee rette se vogliamo ci sono anche quelle ce la salviamo e è fatta ce la troviamo sempre ancora più interessante crea confronto questo come vi dicevo prima molto efficace perché a quel punto io metto insieme due opere ognuna spiega l'altra proprio attraverso le differenze non solo spesso ci sono opere da confrontare che si trovano magari una nel primo volume una nel terzo e i ragazzi il primo non ce l'hanno più chi l'ha venduto chi ce l'ha a casa insomma difficile fare questi confronti quindi prendere che ne so una scultura come il diadumeno confrontarla con l'ercole ma io lo potrei confrontare anche con forme uniche della continuità nello spazio di boccioni chi me lo vieta nel momento in cui il database è completo io ho a disposizione tutta la storia dell'arte per fare questo lavoro le guardo in anteprima e ce le ho tutte e due come i confronti che vedevate prima però questo è un confronto che mi sono inventata io che sto facendo sul momento dove possiamo vedere per esempio che nonostante l'appoggio sia sempre sulla gamba destra ne vengono fuori due figure che vanno una in un senso e una nell'altro quindi ci dà l'idea di come questa di Lisippo in effetti non mantenga più quell'equilibrio infatti si poggia sulla clava perché si sta si sta riposando è stanco insomma sappiamo che il suo titolo infatti è proprio Ercole in riposo ultima cosa questa forse ancora più bella di tutte quella dell'inserimento di immagini personalizzate quindi io posso creare un'altra lezione tolgo queste per esempio che sia fatta ah queste qua me le ero conservate un attimo vi stavate perdendo un confronto ecco questo perché le avevo messe perché questo ci fa vedere pittura a figure nere e pittura a figure rosse affiancando le due opere quindi a livello tecnico scopriamo per esempio che per le figure nere i dettagli andavano incisi con una punta metallica per le figure rosse siccome il rosso era già il fondo del vaso il nero era dipinto i dettagli sono dipinti lo spessore è variabile la pittura diventa molto più espressiva e anche tridimensionale fatto questo vi dicevo creiamo una lezione e torniamo al punto di partenza il museo archeologico di Napoli dove io posso non solo ricreare il percorso quindi rimettere le opere che sono presenti in questo museo in questo caso per esempio abbiamo il vaso abbiamo Ercole ma potevamo averne conservate tante altre ma aggiungo anche le mie foto attraverso la funzione carica immagine io posso prendere scatti fatti da me dagli studenti quindi può diventare un lavoro didattico non è la solita visita al museo in cui poi chi si è visto si è visto a loro interessa solo comprare i souvenir no perché io poi posso chiedere dare dei compiti precisi e montare una lezione con le foto degli studenti ma posso mettere anche immagini prese da internet insomma qualsiasi immagine che non è contenuta nell'archivio quindi potenzialmente diventa assolutamente infinito teoricamente ci si può sbizzarrire e aggiungere qualsiasi altro dettaglio quindi anche opere che per esempio non sono nel libro di testo o anche dei momenti ecco qua un dettaglio del supplizio di dirce il lato B di Ercole di nuovo il nostro Hermes a riposo dei bronzi e questi li posso visualizzare esattamente come per le altre opere quindi vedo un dettaglio di sarcofago un momento anche di vita vissuta in un museo quindi una persona che si confronta con un'opera altri particolari che posso poi aprire visualizzare quando carico l'immagine posso fare una didascalia completa e quindi veramente sto integrando e implementando questo museo insomma questa è un po' una panoramica con cui siamo tornati indietro soprattutto per tornare a vedere alcune immagini e invitarvi adesso a vedere le opere dal vero che sono sempre molto più belle molto più espressive penso di avere finito vi ringrazio molto per la pazienza perché capisco che insomma questa spiegazione è anche abbastanza complessa grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti